ragazzi buongiorno oggi andiamo a pestare un po di neve non con la mula ma abbiamo un'ammiraglia qua e andiamo su con questa bellissima opel cadetta questa e lui lo conoscete già riccardo di biella laura e alessio ciao alessio andiamo su in alpeggio da bruno a mangiare pranzo e prestiamo un po di neve sicuramente arriviamo si guardatela la zoom un po no senz'altro andiamo nella neve lì potete vedere le baite sarri poi parte tutto il ballone di traversiera alessio andiamo su faccio ancora vedere la chiesa qua di san maurizio se riesco a farla vedere qua di fronte però non c'ho lo spazio sufficiente siamo ripartiti riccardo se sei tu casuta no 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 le auto se le auto che basta pronti noi aspetta che giro la camera così facciamo vedere come siamo accampati sulla cadena non giro così tutto norma qui ovviamente per le scampagnate riccardo che andiamo nella neve è vicina hai visto i cittadini che non riescono a guidare in montagna ha già provato a tutte le marce adesso la imballa guido io dai va fai guidare a me va no il badinto alla terza non è la prima sono le borcole ma qua diciamo che è il piano è però loro sono abituati nelle colline biellesi ma è come i cavaliere di pianura che fanno montagna e vogliono correre dietro alla mula no eh è la prima è la prima indinta è ventana in mulela arrivati per il momento salvi in salvi alla chiesa di madonna delle grazie con le cime innevate con le cime innevate il sebole è ben innevato la camera perché siamo di nuovo impantanati qua una mezza salita adesso il pilota accelera tutto ma la imballa ancora una volta sfriziona sfriziona non ce la faccio ce la faccio la faccio ce l'abbiamo fatta laura aiuto sei dentro la storia sarà un buon fantino ma come pilota come pilota però da come ho capito il tuo cavallo non lo fai montare da lui no ok quindi neanche un buon fantino e pensate che una volta era anche bravo nelle traiettorie ma adesso va a sapere cosa li ha presi ma ne tanto avanza sei anche kg troppo sono anche pesante adesso ragazzi adesso abbiamo trovato un po' di poltiglia mi sa che dobbiamo partire su a piedi col pranzo mi sa che la prendiamo di rincorsa non so che tattica usa qua il ragazzo di pianura ma si che è un bocci davvero è una piroca parere alè dai dislaggio velocissimo tutta roccita ma stai citunati aie aie va che anduva per giù in tal pra no no niente da fare mentre che mi slancia ancora sennò oggi facciamo il video sulla guida di Riccardo e c'è a me che trova il boom per due io l'ho uscito a me n'elicottero ma è in disfera che è aspetta aspetta ci siamo riusciti a ripartire adesso vediamo qua dai fila fuma dai fila fuma dai aie aie ce la facciamo ce la facciamo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta e non ce l'abbiamo fatta dai fila fuma dai 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 ce l'abbiamo quasi fatta, ce l'abbiamo fatta, adesso siamo in piano, complimenti, complimenti ma io provo al mucca, complimenti, sembra già quelli che guardano i miei video quando sono sugli strapiopi con la mula, non fa che rivecchi con questo polino, porca miseria, come lì è un 4x4, ecco perché, ecco qua, ti hai visto, su arrivo, ma io capi perché, ma io capi perché, ma io capi perché, guarda, avevi il freno, mi hanno tirato, ma porca miseria, ti tiriamo il freno, ti tiriamo il freno, ma guarda, non c'è più che funziona, non farai mai una cosa del genere, ma porca miseria, guarda avanti sui vacche, ce l'hai anche lì giù, ti dico, un viaggio allucinante, un viaggio allucinante è stato, sul cadet si esce dal portellone posteriore, perché questo ha solo due porte, Allora, se tu le vai in barattola e su camara, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono fuori dal filo. Grazie a tutti. 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 Questa mangia il ginocchio perché l'erba oltre il filo è un pelino più verde. Grazie a tutti. 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 Poi ci vediamo. Ciao ciao. 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 Ciao.